ciao a tutti bentornati sul canale oggi nuovo video all tanto per cambiare perché ultimamente se non faccio video faccio video di svuota la spesa siamo andati da primark ho preso delle cose per mauro perché noi quando ci sono i saldi io ragazze ne approfitto e prendo cosa anche magari un po più grandine in modo che posso usarle adesso ma che gliele posso sfruttare anche l'anno prossimo perché tutti gli anni sia giorgia che a mauro devo cambiare i vestiti per cui cerco di approfittare certo non è che compro cose enormi anche perché me le cose proprio grandissime i bimbi vestiti così a me non piacciono per cui finché è un attimino abbondante che possa sfruttarlo ancora magari la stagione prossima c'è la stagione scusate l'estate prossima va bene ma non esagerato comunque allora siamo andati da primark e anche ho comprato una cosa da ikea che vi faccio vedere subito che così almeno questa visto che solo una cosa facciamo la svelta allora abbiamo preso questo scatola sottoletto grandissima c'è solo questa misura da sottoletto così bassa perché dobbiamo mettere via le costruzioni di mauro e siccome ne ha tantissime gli hanno regalate tante non sapevo dove metterle nell'armadio non ci sta più niente quindi abbiamo preso questo per mettere le costruzioni poi più avanti ne prenderemo un'altra per mettere altri giochini comunque questa pagata 4 euro il coperchio e 8 99 la scatola vediamo si vede si 12 99 adesso iniziamo con le cose di tralmar allora abbiamo comprato questa magliettina che troppo bella questa fluo così ho preso il 56 anni mauro ha già cinque anni ma questo veste già abbondantina quindi secondo me forse anche l'anno prossimo riusciamo a usargliela questa non era in offerta ma costa già veramente 2,50 euro è un prezzo buonissimo così col taschino e con i risvoltini qua questa è la scelta lui gli piaceva un sacco sulle maniche così poi un paio di pantaloncini così con la culisse con le taschine qua e ha un taschino anche dietro questo 3 euro ragazzi veramente sempre 56 anni vediamo se mette a fuoco comunque 3 euro allora questo in 56 anni ma anche questo veste abbondante infatti avendo la pulisse gliela stringo e riesce a sfruttarla forse anche l'anno prossimo ma non lo so questi poi allora ho visto che ci sono già un sacco di cose autunno inverno il che al momento mi ha lasciato un po così perché ho detto boh per me è un po presto però ho visto i prezzi per cui ho intenzione di tornare sia con sia per giorgia che per mauro perché da primark ho notato che arriva la arrivano i capi d'abbigliamento e se non li prendi subito è facile che vai la settimana dopo e non trovi più niente per cui se riesco ad andare in settimana quando la giorgia finisce il grest magari facciamo un salto vedere se trovo qualcosa per lei per la scuola perché lei mi rovina tantissimi leggins hanno le sedie che non lo so se sono di legno o non lo so comunque mi viene a casa con tutti i leggins rotti sia sul sedere sulle gambe non so e comunque anche altre mamme mi hanno detto che anche le loro bambine hanno lo stesso problema quindi penso che siano proprio le sedie e siccome lei me ne usa veramente cioè me ne consuma tantissimi nell'arco della dell'anno scolastico ho visto che là ci sono dei leggins a prezzi assurdi perché gli hanno preso un paio dove vi faccio vedere a 2 euro e 80 che vabbè anche se gli durano due settimane voglio dire chi se ne frega gliene prende un po di più e siamo a posto piuttosto andare a spendere 15 euro e comunque durano come questi qua va bene così comunque detto questo allora pantaloni già pesanti della tuta guardate mi piacciono tantissimo fatti così melange e io adoro i pantaloni col polsino in fondo questi sono già felpatini vediamo sono già belli felpati sono morbidissimi così sempre con le tasche la coulisse questo li ho preso 7 8 anni perché ho visto che la misura in meno c'era proprio poca differenza per cui le ho provate ho visto che glieli rimborso appena appena avendo poi il polsino in fondo non devono girarli né niente quindi ho visto che non non sono enormi e allora penso preferito prendere una taglia in più così usa per tutto l'anno dell'asilo nel senso non è che dopo due o tre mesi non gli vadano più bene e questi non c'è più prezzo vediamo se li trovo qua scusate non so quanto costano perché qua non si capisce comunque credo che siano sui 7 8 euro questi così e questo fa parte del dell'invernale già poi vediamo che ho preso delle cose anche a mio marito a eccoli qua questi sono i legge semplicissimi e senza disegni senza chissà cosa semplicissime però mi piaceva tantissimo questo rosa antico non è rosa cipria non so comunque mi piacevano tantissimo semplicissimi così a lei ho preso 12 13 anni perché giorgia molto alta guardate 2 euro 80 veramente questi anche se me li rompe non mi interessa se li prenderò penso 10 paia che così siamo a posto ed è per questo che voglio andare appunto prendere le cose per la scuola se riusciamo settimana prossima quelli lì per giorgia poi questa canottierina per mauro perché aveva bisogno di cantiere vediamo è guardate che carino mi piace un sacco questo colore così o plastica nel riscontrino scusate con questo disegno così e anche lei pagata due euro e cinquanta poi mi cade tutto allora sempre per maurino altra canottiera di cars perché lui ama cars ama batman spider man insomma tutte le cose da maschietto guardate che bellina che sono fatte molto bene mi piacciono un sacco abbiamo già preso delle magliette della disney a da primark lavate messi in asciugatrice bellissime anche queste stampe quando non si rovinano e se anche se sono gommate così avevo paura che in asciugatrice si si appiccicassero come mi è già successo con altre magliette ma con queste quali primark no e comunque ci voglio dire 4 euro direi direi che è un prezzo buonissimo questa così almeno ci prepariamo anche un po di cose per andare al mare perché mauro aveva veramente poche canottierine poverino no ma è questa questa la adoro questa quella voglio anch'io guardate la maglietta di batman è bellissima allora questa 6-7 anni questa costa un pochino di più pagata 7 euro così però voglio dire sono strepitose sono fatte veramente bene così infatti a lui piace provare i vestitini così quando eravamo la nel camminino diceva ogni maglietta che provava guarda come sono figo mamma guarda come sono figo sì perché è fighissimo veramente cuore di mamma poi abbiamo preso un paio di jeans questo mi ha preso mio marito così c'è nel senso che li ha scelti lui perché tanto poi il conto bancomat è sempre che sempre quello tradotto allora 56 anni hanno l'elastico dentro per poter stringere la vita così con il risvoltino questi li abbiamo pagati 6 euro così sì di cose in saldo c'erano alcune cosine non erano tantissime infatti queste non c'è niente di saldo però voglio dire i prezzi sono non si può dire niente non si può chiedere lo sconto anche su questi e comunque se vi interessa ho visto che c'era uno scaffale pieno di magliette mezza manica a un euro infatti sto parlando con con mio marito se magari andare prendere delle magliette già per l'estate prossima e prendere una bella scorta perché è un euro vuol dire le usano in casa l'usa fuori a giocare non mi interessa anche se loro vino poi vediamo se c'è ancora qualcosa di mano no mi sa che sono rimaste solo cose sì per mio marito allora per mio marito abbiamo preso dei pantaloncini così di cotone semplicissime da usare in casa o quando facciamo la sera in bicicletta così questi pagati 8 euro abbiamo preso ma questo non si è accorto questi qua sono pesanti e sono felpati dentro ha provato gli altri più leggeri vabbè dai vedremo a limite gli ricambi tanto abbiamo tempo per cambiarli e andiamo prendere gli altri più leggeri questo poi l'abbiamo infatti questo vedete che questo è garzato questo qua leggerissimo mentre questo non si è accorto vedete questo proprio felpatino quindi questo da cambiare così allora questo infatti costa 6 euro sempre fatto uguale con le tasche scusate con la tasca dietro con la police così e ne abbiamo preso ancora un paio meno male guarda se era felpato anche questo invece no questo 10 euro non capisco perché questa differenza di prezzo che sono presso che è uguale però fa niente pace così tra l'altro erano gli ultimi della xl non c'erano più c'erano tutte xs sm ma xl non c'era più niente quindi aveva per forza dovuto accontentarci di quello che c'era così e lui ha preso anche dei fantasmini vediamo se c'è il prezzo si era allora un paio già usati sono cinque paia 1 2 3 4 un paio che ha già usato a 5 euro per cui un euro al paio vanno benissimo e allora da primark in totale ho speso 53 euro vediamo se riesco a eccolo lì 53 euro e per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video un bacione ciao